... Mi tengono d'occhio. Mi serve una chiave del bunker, ma prima devo spegnere le telecamere. Sottosegretario Goro, la tua presenza è richiesta nella sala... Signori? Questa è un'area riservata. Se mi vedono qui, addio copertura. Ora devo nascondere il corpo. Devo procurare una chiave del bunker a Adler. Mi servirà per accedere alla camera blindata. Purtroppo Charcov ha l'unica disponibile. Con questi entrerò nell'armeria. Dentro potrei recuperare una tessera vuota da riprogrammare in una chiave del bunker. Ecco Charcov. Bene, ora devo far entrare la squadra di Adler del Sotterraneo. Sottosegretario Goro.